Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del prodotto, ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro, è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il Snapper RTX 122 emerge per eccellere nella cura degli spazi verdi. Equipaggiato con un piatto di taglio, ampio 122 cm, dotato di due lame, che assicura una rifinitura netta e veloce dell'erba. Tra le caratteristiche distintive dell'RTX 122, spicca il capiente cesto di raccolta da 380 litri, con l'innovativo sistema di svuotamento del cesto direttamente dal posto di guida, e l'opzione di taglio mulching, mediante l'uso di un tappo specifico. Queste funzionalità, insieme alla possibilità di regolare l'altezza del taglio in sette posizioni diverse, da 25 a 95 mm, permettono un adattamento perfetto. Un intuitivo schermo LED consente un monitoraggio costante delle operazioni, mentre il Cruise Control mantiene la velocità di taglio costante, offrendo risultati uniformi. La presenza di porte USB per la ricarica di dispositivi elettronici e uno spazio dedicato al telefono migliorano la comodità d'uso. La trasmissione idrostatica, gestibile con un pedale, insieme a un sedile regolabile e superconfortevole, assicura una guida piacevole e precisa, rendendo il RTX 122 uno strumento versatile e indispensabile per la cura e la manutenzione di giardini e spazi verdi. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.